Quando abbiamo a che fare con l'evaporazione abbiamo a che fare con un fenomeno estremamente complesso, perché l'evaporazione di per sé è quello che abbiamo visto la volta scorsa, cioè è la trasformazione di un liquido, in questo caso dell'acqua, in vapore. È dovuta a vari effetti termodinamici e a varie condizioni. E quindi è un flusso, tipicamente è un flusso molecolare che si diffonde con la legge di Fick. E anche questa è una cosa di cui avevamo dato in qualche modo una spiegazione. Però in realtà quando noi siamo in idrologia siamo interessati ai bilanci idrologici. Questo bilancio idrologico, l'evaporazione di per sé rappresenta un flusso da una superficie verso l'atmosfera. Per mantenere questo flusso, esattamente come in tutti i flussi, bisogna che si sia continuamente esporto di vapore nell'atmosfera immediatamente sovrastante la superficie emittente. Questo perché altrimenti si raggiungerebbe nel volume di controllo appena superiore la tensione di vapore e dopodiché nulla potrebbe evaporare di più. Il mantenimento del contenuto di vapore all'interno di questa parte di atmosfera è regolato dalla velocità del vento nell'atmosfera immediatamente superiore. E in particolare non solo dalla velocità del vento, ma anche dal modo in cui questa velocità si dispone. Nello strato immediatamente sopra il nostro sistema, il moto è laminare, ma in condizioni normali lo strato laminare è molto piccolo. Si tratta di pochi millimetri, un millimetro, forse anche meno in certe condizioni, di moto laminare. Tutto il resto del campo di flusso è regolato da moto turbo lento. E il moto turbo lento, come sapete anche dai vostri studi di meccanica dei fluidi, sono moti molto complicati. Sono legati ad una distribuzione estremamente irregolare delle velocità, sia nello spazio che nel tempo. Quindi storicamente l'evaporazione, nonostante si tratti di un flusso che collega due domini differenti attraverso la superficie traspirante, cioè un dominio che contiene l'elemento che è evaporato, l'acqua, e l'altro dominio che invece contiene il vapore, è dominato dal trasporto turbo lento in atmosfera. Il trasporto turbo lento è una cosa molto complicata da trattare, ed è la sua trattazione rimane uno delle frontiere aperte della fisica anche oggi, anche se esistono dei modi per trattarlo dal punto di vista numerico in maniera molto sofisticata. Tuttavia quello che facciamo noi è cerchiamo una trattazione semplificata della trattazione della turbolenza atmosferica, perché questa è quella che in qualche modo risulta semplice da trattare e in maniera tuttavia anche sufficientemente precisa da un certo punto di vista. La teoria sulla quale ci basiamo è una teoria dovuta a Prandtl circa 100 anni fa. La sua teoria che cosa implica? Implica che le quantità trasportate sono regolate dalle fluttuazioni del campo di velocità in atmosfera. E in particolare, beh, ρ è la densità del vapore, w' in questo caso è la componente fluttuante della velocità sulla verticale, e asterisco' è qualsiasi altra quantità che noi vogliamo trasportare. Potrebbe essere la quantità di moto, in questo caso ci sostituiamo u. potrebbe essere la quantità di, la capacità termica, in questo caso ci sostituiamo Cp, la capacità termica per la temperatura, e in particolare la fluttuazione della temperatura T'. E se fosse l'umidità, possiamo sostituire un Q', che sarebbe l'umidità specifica relativa a questo fattore. e ovviamente questa formula deriva dal fatto che noi abbiamo scomposto dal nostro campo di velocità nell'aria sovrastante alla superficie emittente in una componente media, che qui è chiamata semplicemente, che la velocità è un vettore quindi ha tre componenti, le cui componenti medie sono u, v e w, mentre le componenti fluttuanti sono u' v' e w'. Quello che nel primo caso noi, cioè noi nel trattare il fenomeno di trasporto turbolento, abbiamo varie quantità che entrano in gioco. In particolare la prima è, la prima quantità trasportata è la quantità di moto. In questo caso la quantità di moto, senza andare a fare riferimento allo sviluppo di tutta la teoria, anche se poi ne accenno alcuni contenuti, la quantità di moto è trasportata, è data da questa tau, che è meno, nel senso che viene trasportata via dal volume di controllo, ρ, v' che è la velocità verticale del vento, anzi la fluttuazione della velocità verticale del vento, e u' che è la fluttuazione della velocità orizzontale, se vi ricordate qui questa era la decomposizione della velocità. Abbiamo un'altra quantità che chiamiamo H grande, che è quello che è chiamato trasporto del calore sensibile. Altro non è che il trasporto, tradotto in termini moderni, sarebbe il trasporto di energia termica dovuto ai gradienti di temperatura. In questo caso l'energia termica qui è descritta come Cp, C grande P, che è la capacità termica per T' e poi Cp è una costante, quindi viene portato avanti, e dobbiamo considerare la media delle fluttuazioni reciproche di V' e T'. Cioè abbiamo questi due campi fluttuanti, la temperatura e il campo di velocità, in particolare noi consideriamo il campo di velocità verticale, perché consideriamo il campo di velocità verticale poi lo dirò anche dopo, e questa formula mi dà il trasporto di calore sensibile oppure di energia termica, se vogliamo dirlo in un altro modo. L'altra quantità che ha a che fare con il trasporto turbolento è appunto quella che viene in un certo senso chiamata erroneamente evaporazione o evapotraspirazione, perché appunto è un flusso fuori da questo, alla superficie, al contorno di questo volume di controllo in atmosfera. In questo caso al posto dell'asteresco mettiamo Q' e questo è il water-vapor transport. Scritte così queste formule non ci dicono molto, nel senso che, bene, dipendono dalle fluttuazioni delle velocità, a questo livello, e in effetti fu così nella teoria di Prantla, questi risultati possono considerarsi dei risultati semi-empirici, cioè che hanno dei fondamenti teorici, ma prevalentemente sono corroborati da una serie di esperienze, in particolare queste esperienze fatte sul moto relativamente ad un piano infinito, quindi un moto su una superficie che ha una certa simmetria e possibilmente anche una certa distribuzione delle scabrezze uniforme. Se avessimo voluto fare un lavoro maggiormente preciso avremmo dovuto considerare, esattamente come avevamo fatto la volta scorsa parlando però del flusso delle acque nei canali, le equazioni Navier-Stokes. Siccome ve ne ho parlato la volta scorsa, non vado a specificare che cosa sono i termini, ma il primo membro, vi ricordo, è quello che noi chiameremo MA, la massa per l'accelerazione del nostro fluido, mentre il secondo termine sono le forze agenti, che sono di tre nature, forze di pressione, forze dovute alla divergenza di questo tensore T, che sono gli sforzi tangenziali che producono, che produce il fluido con il contorno, il fluido anche internamente a se stesso, e poi più un termine F, che in questo caso è un campo di forze, e in particolare la forza di gravità, ma potremmo avere anche altre forze. Quali sono le condizioni rispetto alle equazioni Navier-Stokes, rispetto alle quali noi otteniamo le formule che abbiamo presentato prima? Beh, cominciamo a considerare appunto che l'aria si muova su un piano omogeneo, in cui la rafne sia uguale dappertutto, la scabrezza intendo, che la dinamica del moto sia stazionaria, quindi dv su dt sia uguale a zero, fondamentalmente, se è omogeneo e senza subsidenza del moto, in cui per esempio una componente più densa viene a depositarsi, tutte le parti che dipendono dalle derivate parziali rispetto a x, rispetto a y, scompaiono, e anche rispetto a z per la questione della subsidenza, e trascorriamo poi anche la viscosità molecolare, cioè la parte di trasporto dovuta alla diffusione molecolare. Allora, in questo caso, effettivamente, di quella equazione che abbiamo scritto sopra, scompare tutto il primo membro, cioè m per l'accelerazione, la prima parte scompare, scompaiono i termini di pressione, l'unica parte che rimane viva sono i termini di fluttuazione calcolati rispetto al gradiente d su d z. Allora, quella, la nostra equazione di Navier-Stokes, semplificata, si traduce in d su d z di u' v' uguale a 0, o che u' v' con la barra sopra, che significa la media temporale, in questo caso di u' e v' delle fluttuazioni, è uguale ad una costante. La teoria di Prant, la parte da questo assunto, cioè dopo aver definito appunto e aver in qualche modo determinato sperimentalmente, posto insieme un insieme di evidenze per cui il trasporto effettivamente avviene in questo modo, Prant assume di poter sostituire alle fluttuazioni i gradienti spaziali delle grandezze. Quindi, per esempio, per il posto di ω, di v'', v'', che sarebbe la fluttuazione verticale della velocità, pensa di poter sostituire il gradiente della velocità media, del modulo della velocità, peraltro sul piano orizzontale. E alla fluttuazione della temperatura, il gradiente della temperatura. Secondo una legge di proporzionalità, che quindi richiede davanti un coefficiente, questo coefficiente in questo caso viene chiamato numero di Stenton. Per quel che riguarda invece il trasporto di quantità di moto, la fluttuazione della velocità verticale viene assunta proporzionale al gradiente della velocità, del modulo della velocità orizzontale. Mentre il gradiente di U' è uguale al gradiente di U. Tenuto conto, tra l'altro, che U ha un profilo, come vedremo, ed è zero, ed è zero attaccato alla superficie, per cui viene CD, quel simbolino, quel delta che compare, si chiama, è un delta, effettivamente, delta U quadro, che si chiama drag number, numero di resistenza. L'ultima espressione, ugualmente, ha un coefficiente davanti, che è C con E, come vedete C con H, C con E, C con D, sono presi qui tutti diversi, per la densità del vapore, in questo caso, per la variazione di velocità, per la variazione di umidità specifica. Quando queste quantità, facciamo l'ipotesi che siano tutte delle quantità trasportate dal moto, e non alterino il moto di per sé, cioè temperatura, quantità di moto, che è un concetto un po' astratto, effettivamente, e umidità sono trasportate dal campo di moto, dal campo di velocità e dalle strutture turbolente del moto. La prima ipotesi che facciamo, intanto per semplificare, è che tutti i coefficienti di drag, di dalton e di stanton, sì, siano uguali fra di loro, le chiamiamo C. In questo modo, se supponiamo che siano uguali fra di loro, abbiamo anche un primo modo per cercare di capire come stimarli. Perché intanto, perché abbiamo un sistema per capire come stimarli, perché possiamo partire, per esempio, dal trasporto di quantità di moto. Il trasporto di quantità di moto, abbiamo appena detto, è ρcd u al quadrato, ma questo è anche ρu' v' al quadrato, e questo, soprattutto, questo u' v' al quadrato, sono delle costanti. No, questo u' v' al quadrato è costante, è costante perché abbiamo fatto questa semplificazione e deriva da questa condizione. O potremmo pensare che il rapporto di queste quantità è costante perché l'abbiamo misurato e abbiamo verificato che è costante. Se è una costante, possiamo definire, definiamo un'altra costante che chiamiamo velocità di attrito, in inglese friction velocity, e diciamo semplicemente che questa costante è uguale a ρ per u star al quadrato, dove u star è la friction velocity. Se abbiamo definito la friction velocity in questo modo, non è che abbiamo guadagnato molto, però poi esprimeremo tutto in funzione di questa friction velocity. In particolare, in funzione della friction velocity, risolvendo questo sistema che si viene a formare sopra, io ottengo che il mio coefficiente c, la mia conduttanza relativa, ho introdotto una parola nuova, conduttanza qui, relativa al mio moto, è uguale al rapporto del quadrato della friction velocity e della velocità media. Questo comincia già a essere un minimo interessante perché la velocità media orizzontale io penso magari di poterla misurare. Per quel che riguarda la friction velocity, per il momento ancora non so che cosa sia, quindi devo andare a capire come posso determinarla. E quello che faccio la vado a determinare in base a vari esperimenti. Questo è il rapporto su vari esperimenti che sono fatti. e il grafico è molto complesso anche perché le grandezze in ascisse e inordinate sono adimensionalizzate rispetto alla viscosità, rispetto alla friction velocity e in modo particolare. Però quello che voglio che voi ricordiate di questo grafico è che questo grafico, che appunto riassume un insieme di esperimenti e di indicazioni teoriche è che c'è uno strato viscoso in prossimità delle pareti. C'è uno strato intermedio e poi c'è uno strato che è chiamato strato inerziale e in questo strato inerziale vedete segnato c'è una U più uguale 1 su K logaritmo di Y più più B vale una legge logaritmica di andamento della velocità. Nello strato viscoso la velocità cresce linearmente con la distanza dalla parete. Nello strato inerziale immediatamente successivo cresce con un profilo logaritmico. Questo è un po' quello che è anche rappresentato nella parte in basso a destra in questi profili di velocità che variano con la quota. Nella nostra notazione questo si traduce a dire che la nostra velocità è uguale a U star diviso K che è una costante che si chiama costante in von Karman per il logaritmo di Z meno ZD diviso Z0 dove il fatto che ci sia il logaritmo sta a significare che noi abbiamo verificato che c'è questo andamento logaritmico delle velocità. Il logaritmo di 0 peraltro è meno infinito quindi io devo in qualche modo astrarre dal fatto che questo profilo logaritmico non può partire esattamente in prossimità della parete. E questo ZD è questa altezza di displacement displacement height chiamata in inglese che rappresenta l'altezza in cui si assume cominciare il profilo logaritmico. Z con 0 invece è un'altra interpretazione ed è la scabrezza della mia superficie cioè tutto questo profilo logaritmico è in realtà riscalato rispetto alla grandezza delle scabrezze che sono presenti così ben diverso se Z a 0 sono delle foglie d'erba alte 5 cm o se sono delle piante altre 10 metri o se sono degli edifici alti anche 20, 30, 40 o 100 metri. Se questa vale questo tipo di relazione in cui diciamo se la prendiamo come una relazione empirica noi possiamo fare delle misure di velocità con la quota avendo misurate le scabrezze e sapendo e avendo valutato in qualche modo questa costante che compare davanti possiamo ricavarci U star e in particolare U star ci risulta K la costante che poi chiameremo di von Karmann U che è la velocità media che andrebbe barrata sopra per il logaritmo di questo Z meno Z zero diviso Z D alla meno 1 e quindi possiamo pensare di sostituire questa formula in quella precedente che avevamo ottenuto qui in cui avevamo che il coefficiente di friction era la conduttanza rispetto al trasporto della quantità di moto era il quadrato proporzionale al quadrato della velocità di attrito di fatto ricaviamo U star e lo sostituiamo all'interno ottenendo questa espressione in cui compaiono appunto dei quadrati che sono dovuti al fatto che noi che il coefficiente c era espresso appunto in termini di quadrati o il quadrato della costante di von Karmann che poi vale circa 0,4 e il logaritmo al quadrato di z meno z0 diviso zd questa sì che è una bella espressione per quel coefficiente perché in qualche modo possiamo pensare di misurare tutti i parametri che vi compaiono e abbiamo un modo per determinarlo tra l'altro sono K quadro K ha una storia forse un po' più complessa però z0 e zd possiamo pensare di che siano ottenuti in riferimento ad un'altezza particolare particolare che andremo a vedere dopo allora le nostre formule che come si trasformano le nostre formule principali guardate per il momento sotto solo la C che sta sotto è uguale a K quadro diviso logaritmo al quadrato z meno z0 diviso zd e le nostre formule sono per il trasporto della quantità di moto meno Rho C U al quadrato U barrato al quadrato per il calore sensibile Rho C compare il C con P perché il C con P è il calore la capacità termica in questo caso del del vapore della per U che è la velocità del vento per T0 meno Tz T0 meno Tz va a sostituire quello che prima avevo chiamato delta T ed è la differenza di temperatura fra il livello 0 e il livello z z0 e il livello z allo stesso modo per l'evaporazione io ottengo quella che poi chiamerò legge di Dalton che è il fondamento delle cose che faremo in seguito in cui compare Qz0 meno Qdz Qz0 è l'umidità in prossimità della superficie emittente Qz è l'umidità all'altezza z cioè quindi l'evaporazione che io in particolare su una superficie ideale di questo volume di controllo dell'aria verso l'alto è pari alla differenza dell'umidità specifica tra il livello emittente e il livello in cui mi trovo a volte invece di usare C uso il suo inverso che è chiamato 1 su RA che è chiamato resistenza aerodinamica un'altra osservazione su queste formule è che queste formule se prendiamo un'analogia con le formule per esempio delle correnti elettriche questi coefficienti possono essere visti come delle conduttanze e quindi i loro reciproci sono delle resistenze come si calcolano Z0 e Zd beh Z0 e Zd in base all'esperienza che è stata fatta si possono essere correlati all'altezza della per esempio della vegetazione sopra il quale l'aria fluisce quindi se Zveg è l'altezza della vegetazione Zd qui è preso 0.7 altre volte si prende anche 0.9 l'altezza della vegetazione mentre per quanto riguarda la scabrezza di solito si prende Z0 pari a un decimo dell'altezza della vegetazione queste si possono pensare come dei risultati empirici relativamente alla calibrazione di queste formule allora se Z0 è 0.7 Z abbiamo lì logaritmo abbiamo il logaritmo di Z meno 0.7 Z è no scusate no Z è quel che è perché dipende dalla quota scusate ho avuto un attimo di distrazione ma possiamo bene sostituire questi valori e andare a calcolare le scabrezze attraverso una misura semplice che è l'altezza della vegetazione è ovvio che non sia tutto così semplice come vi sto facendo adesso che in realtà la valutazione delle macro scabrezze e tutte queste cose sia un elemento piuttosto dibattuto nella letteratura tuttavia per il momento prendiamolo come assodato come del resto anche la questione qui del profilo logaritmico e della transizione rispetto al viscov sublayer e al fatto che vedete accennato qui sul fatto che il profilo logaritmico si sia sopra la vegetazione ma poi all'interno della vegetazione ci sia anche restaurarsi altri tipi di profili in cui la turbolenza magari si insinua all'interno delle piante cioè la questione è assai più complicata di come la sto facendo adesso ma certamente questo è il modo in cui nell'ultimo secolo si è andata pian piano costruendo un apparato di si è andato sedimentando un apparato di conoscenze che danno risultati discretamente accettabili l'evaporazione si può scrivere anche in questo modo una volta che al posto dell'umidità specifica si è sostituito il rapporto di mescolamento oppure epsilon per E dove è la pressione parziale del vapore diviso P in questo caso la formula è un po' più complicata e comunque questa è conosciuta come legge di Dalton dell'evaporazione mentre prima avevamo in precedenza avevamo nominato un'altra legge di Dalton che era quella delle pressioni parziali cioè che la somma la pressione totale di un di un gas di una miscela di gas è pari alla somma delle pressioni parziali delle miscele componenti se dunque la guardiamo da questo punto di vista che cosa che cosa succede questa è la nostra legge di Dalton quando avviene l'evaporazione dal punto di vista del trasporto di momento certo abbiamo la diffusione molecolare ma non abbiamo che rimane sotto traccia in questo caso e nulla si muove se QZ0 è uguale a QZ qui ho usato Z0 e Z come pedici invece che come tra parentesi ma esattamente la stessa quantità di prima se QZ0 è maggiore di QZ ho un movimento di di vapore dal basso verso l'alto da Z0 a Z in generale e viceversa ho un movimento da Z verso Z0 un'osservazione importante da fare che qui il movimento è generato dalla differenza di contenuto di vapore da due posizioni in due posizioni differenti è simile alla legge di Fick di cui abbiamo parlato la volta scorsa una volta che questa sia integrata o rappresentata alle differenze ma è molto diversa dalla legge di Fick perché il coefficiente davanti di flusso è ottenuto in modo molto diverso ed anzi è decine se non centinaia di volte più efficiente nel trasportare il vapore spesso in questa formula si fa un'assunzione se si pensa che la superficie Z0 che è la superficie emittente dell'evaporazione sia una superficie per esempio d'acqua in cui su quest'acqua sia sostanzialmente dell'acqua libera cioè non sia soggetta a restrizioni di natura geometrica o di natura termodinamica se facciamo appunto questa assunzione possiamo pensare che Q di Z0 sia uguale a Q star di Z0 che è l'umidità specifica alla saturazione e questa è data come vi ho già detto dall'equazione di Clausius Clapperi se facciamo questa assunzione però dobbiamo aver chiaro sin d'ora che noi facciamo un'assunzione molto forte nel senso che evidentemente noi assumiamo che vi sia abbastanza acqua per produrre l'umidità specifica saturazione come data dall'equazione di Clausius Clebero se non c'è acqua non posso produrre evidentemente tutta l'evaporazione tutto il vapore che mi serve per arrivare a Q star di Z0 produco meno vapore quando io faccio questa ipotesi disaccopio il bilancio di massa dal bilancio di energie e di questo dovremmo tenere conto in seguito per lo stesso motivo con cui abbiamo espresso la legge di Dalton possiamo esprimere anche il trasporto di calore sensibile ovvero il trasporto di energia termica dovuta alla differenza di temperatura e questo dipende dalla differenza di temperatura fra il livello T di Z tra il livello Z0 e il livello Z qui non ho esplicitato le Z che per coerenza notazionale andrebbero sempre esplicitate ma il significato mi sembra altrettanto chiaro cioè ho se c'è una differenza di temperatura fra una superficie e l'aria libera o un movimento di un trasporto di calore che sappiamo che il calore è una quantità che non esiste il calorico di energia termica da Z a 0 a Z e viceversa in funzione del rapporto fra le temperature e direi che a questo punto possiamo fermarci se non ci sono domande qui ci sono definiti tutti i vari coefficienti che sono stati ottenuti e quindi possiamo fare una pausa ci sono domande questioni idee non siate così timidi quindi Grazie.